Il balo di Peppe Il balo di Peppe Il balo di Peppe Il balo di Peppe il ballo di peppe è fatto in questo modo qua e tutti zumba 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 ancora zumba 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 tanto poi ci si fermerà l'inchino si farà e poi facciamo il giro tondo ma di forza fino in fondo tanto adesso non finirà si ricomincerà questo è il ballo di peppe questo è il ballo di peppe questo è il ballo di peppe Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.